Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Cardboard Gamer89 Oggi siamo qua per giocare a Clash Royales Dato che nessuno lo portava dal 2017 Ci sono io qui, nel 2021 Che tutti gli altri che vanno fuori Il 31 luglio 2021 Che tutti vanno in piscina No, io devo stare qua a registrare Clash Royale A farmi le serie Oggi ragazzi giocheremo con il mio iPhone 12 Max Eccolo qua ragazzi Ultima generazione presa da Swappi ragazzi Il link qua sotto in descrizione Per comprare anche voi questo fantastico iPhone Con, dotato di tastiera numerica Il link di Swappi Io l'ho preso ricondizionato Perché io non ho i soldi per prendere uno nuovo Ok, lo dico con tutta la sincerità di questo mondo Quindi ragazzi Se volete il mio link di Swappi Se volete questa bellezza Ricondizionata Mi raccomando, passate qua sotto dal link in descrizione Detto questo ragazzi Paracadute sulle spalle, let's go Eccoci in battaglia Siamo scesi Siamo scesi Eccoci qua Eccoci qua Stiamo giocando contro Tregromox Eh, good luck Good luck te lo dovevi dire da solo Perché tu avrai bisogno di fortuna Non io Io sono un pro player Allora Aspettiamo un attimo che l'Elisir Vada al massimo Ah, con un singolo goblin Cerchi di farmi paura Pure il cavaliere, bastardo Ah, ma io ti carico gli spiritelli Mamma mia Ci sono i razzi che manco Kim Jong-un ha Manco Kim Jong-un Vamos Attenzione Attenzione Bababia 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 Posso credere Non ci 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 posso credere Per questo video è tutto Ci vediamo A 35.000 like Secondo episodio Dove faccio Lo spacchettamento Nel gennario Da 25 milioni di gemme Che manco Grax ha Manco Grax e CiccioGamer Insieme hanno Delirando ragazzi Non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso credere